Aspetta un minuto, chi sei? Christian Plus! Christian Plus! Oppure puoi chiamarmi come cazzo vuoi! Ok signore! Fa! Fa! Leon Fan bentornati a un altro video di Leon Fan! Ragazzi ho messo la coperta perché sono sicuro, sono sicuro e sicurissimo che quando c'è un pezzo di Leon Fan noi geliamo! No, non si può neanche dire geliamo! Non esiste nessuno fottuto! Cioè non esiste neanche un italiano geliamo! Però io ho le mie invenzioni! Come Einstein ha inventato tante cose! Io ho inventato questo! Posso inventarlo! Posso! Posso! Posso farlo! Posso! Posso farlo! Però prima fatemi rispondere a questa cosa! Già risposto! Ok! E posso farlo! Perché io posso! Passo! Passo farlo! Quindi mi sono messo la coperta! Eeeh! Perché farà tanto freddo! Perché c'è Leon Fan! Che farà tanto freddo! Capello! Bernabe! C'è anche quando fa caldo! Quindi! Questo proprio forse è da evitare! È unica cosa che potevo evitare! Sì! Perché geliamo, no? Copertina e tutto! Mi hanno detto che parlo tanto quando inizio il video! Quindi dovevo parlare alla fine! È vero che parlo tanto quando inizio il video, vero? Quindi ho deciso di stavolta di andare subito al soldo, no? Di cominciare subito il video senza parlare e dire le cagate dopo! Quindi la nostra coperta! E andiamo al video di oggi! Leon Fan! Leon Fan! Sentite questo nome! Occhi lucidi! Dopo che ha spaccato con Red Talk! Ha deciso di rilasciare Leon! No! Ha deciso di lasciare occhi lucidi! Con sempre Duffy! 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 Facciamo il volume! Ok! 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 Occhi lucidi sopra ste notte le facciamo gli stupidi siccome le altre volte! Mamma mia! Mamma mia! Oramai quando ascolti un pezzo di Leon Fan non ti devi più sorprendere! Perché sai che ciò che ciò che verrà fuori è sempre una sorpresa! Cioè anche se non ti devi sorprendere ma ti sorprendi! Cioè è come... No no ti giuro che non riesco! Non riesco a fare un video senza parlare! Devo... Devo commentare! O mio canale! Quindi posso parlare quanto voglio! Per l'eternità sarei parte di me! Parti di fiabe di un tale che nasce dal buio ma di vera renda! Se nessuno quando ascolta sto beat per la prima volta! Li verrà mai... Mai... In mente... Di andare! Di tirare fuori! Questo fottuto flow! Cioè! Non ne sbaglia uno! Il turno mio non ricordo volano! Fiabe nella testa! Resta la stessa storia di sempre! Mentre li acaialano! E siccome le altre volte li avevano... Ragazzi alla fine del video voi... Cioè! So sotto i commenti! Fatemi sapere! Ma che... Che... Perché... Il ritmo che stanno usando... È... È una canzone vecchia! Però abbinalo con un beat proprio... È una... Cioè! Abbinalo con... Con un po' di... Con un po' di tutto! Perché è... È un mix della bassa! Perché è già... Ma l'ho già sentito da qualche parte! Vecchie canzoni italiane! Fatemi sapere che canzone è! Fatemi sapere la canzone originale! Perché... Cazzo! Duffy ha fatto una cosa figata! Ha fatto... Ha fatto... Cioè! Ha fatto una cosa figata! Cioè! Come... Bloody By and Trey! Quando hanno usato... L'intro di Studio Aperto! Damn! Bah! Ma... Cioè! Se uno ti chiama folle ha ragione! Sei un folle! Sei un folle! Sei follissimo! Ok ragazzi! Arriviamo a mille... Mille... Cinquecento visualizzazioni su questo fottuto video! E vi dico io! Faccio io! Il remix! Di sta canzone! Lo stesso beat! E ci scrivo io! Tiro fuori cagate! Che dove cagate! E sono cagate! Tiro fuori dove non ci sono cagate! E le trasformo in cagate! Perché cagate! Vanno detti cagate! Giusto che è finito il video! Quindi chi vuole uscire può uscire! Più si chi... Chi esce adesso! Proprio per non sentire cagate cosa dire! Visto che ora... Ora dobbiamo parlare di quello che abbiamo ascoltato! Una cosa che non faccio quasi mai! Perché... Non ci sono cagate! Non ci sono cagate! Insomma parlando musicalmente raga! C'è quel liaone qui eh ragazzi! E poi Duffy! Ma che cazzo ti è venuto in mente? E fa una roba del genere! Bomba! No cap! No cap! No cap! No cap! No cap raga! No cap questo pazzo! E' assurdo! E' assurdo! Cosa ho prima ascoltato? Ah! Come ho detto nel... Nel... Realtalk mi ricordo! Che avevo detto che... C'è chi fa figo perché mangia figa! Lui doveva farsi figo perché mangia melodia! Mangia flow! Mangia di tutto! Ah ma ovviamente mangia anche la figa! Cioè andiamo a fare un po' Mangia la figa! No! Comunque fa ancora freddo perché... Ancora più freddo di prima! Quindi... Non lo so voi! A me è piaciuto sinceramente! E le mie aspettative su Leon Fan sono sempre altissime! Perché... Sono sicuro che quello che ascolto di Leon Fan... Non mi farà mai cambiare mai idea! Per ora uno degli artisti... Emergenti no! Perché ha già fatto tanto per... Chiamare Leon Fan è un emergente! Secondo me... Non è proprio una cosa così! Non c'è... Non si può dire! Secondo me lui già vive... Cioè non... Vive già la sua carriera! Quindi è già... Immerso... Da tuuuuto! E ora... Ora sta solo spaccando e basta! Raga! Sta solo spaccando! E sapete una cosa? Chi... Chi va a spaccare adesso? Lo vado a cagare! Quindi ci vediamo al prossimo video! E... Spero che il video vi sia piaciuto! Se parlo tanto perché posso! Se parlo tanto perché è il mio canale! Se parlo tanto... Perché posso! Posso! Posso farlo! Anzi! Visto che siamo a 9 minuti qualcosa! Ovviamente dopo devo tagliare! Voglio inventare qualcosa per arrivare a 10 minuti! Così il video di una di più! Ci c'è più monetizzazione! No! Ok! Parlando! Voi cosa farete in vacanza! Cosa è... Le vostre aspettative di Natale! Le mie aspettative di Natale! Dormire più! Più possibili! E... E... Ovviamente! Aspettare Babbo Natale! Perché per me... Secondo me Babbo Natale esiste! Non so voi! Secondo me Babbo Natale è nero! Però dicono che è bianco! Però secondo me Babbo Natale è nero! Ma io non so perché dicono che è bianco! Quindi aspettiamo il regalo sotto... Sotto l'arbero di Natale! E... Spero che... Babbo Natale ci entri... Nel mio cammino! Con quel Brack Bambu! Che avrà! Entri nel mio... Ci entri nel mio cammino! E aspetteremo Babbo Natale! Anche noi! Lo aspetteremo con un paio di biscotti! E tè! Anzi il tè l'ho finito! Perché lo... Devo andare a prendere il tè! Sotto a Babbo Natale! Vi saluto! Ehi! Sempre io eh! Il vostro nero preferito! Il nero che ruba la ragazza! La vostra ragazza un giorno! Sapete che vi amo sempre! Haha! Gay!